Allora, vedete che c'è una breve, pochi versetti per la benedizione da Tornomio 28, sì benedizione e maledizione per l'esterno ma c'è una lunga lista una lunghissima lista sulla maledizione, va bene? ma la benedizione che è legata alla legge, lo re Dio è anche una benedizione di prosperità possiamo leggerla perché è molto bella poi vi lascio a casa il divertimento di leggere sulla maledizione perché c'è di tutto, ti viene lo scorputico ti viene la malattia, ti viene la poverità ti viene di tutto, va bene? il cielo non ti produrrà niente non ci sarà frutto, non ci sarà pigna, una cosa tremenda insomma, allora guardate come inizia Dio Tornomio 28 se tu cosa dici se tu compitissi ti recentemente alla voce del Signore il tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do che il Signore è il tuo Dio ti metterà di sopra di tutte le nazioni della terra e tutte queste benedizie ti daranno su di te e si conferiranno per te e si darà assoluta la voce del Signore il tuo Dio dillo con me sarai benedetto nella città sarai benedetto della campagna benedetto sarà il frutto del tuo Sì il frutto della tua terra il frutto del tuo bestiale benedetto di parte delle tue vacche se non ci avete le vacche e le pecore però benedetto le tue pecore benedetto saranno il paniere e la tua magia sarà benedetto nel tuo entrare sarà benedetto nel tuo scir che il Signore farà sì che i tuoi amici quando si alzeranno contro tutti te saranno sconfitti davanti a te usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te sui tuoi granai su tutte le tue imprese ti benedirà nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà il Signore ti costituirà il suo popolo santo come ti ha giurato se lo sentrai i comandamenti del Signore il tuo Dio si cammineranno per via tutti i figli i popoli della terra verranno che tu porti il nome del Signore e ti temerà il Signore il tuo Dio ti colberà di bene per benedire l'opera del tuo Dio tu presterai a molte nazioni non prenderai nulla in prestito il Signore ti metterà la testa e non alla coda sarà sempre in alto e mai in basso se obbedirai ai comandamenti del Signore il tuo Dio che oggi ti do perché il tuo serve e li metta in pratica e se non devierai a destra e a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando per andare dietro ad altri dei per servire allora io mi sono trovato a pronunciare questa parola e più che la pronunciavo e più che dicevo questa è una benedizione per Israele questa è una benedizione per Israele è una benedizione molto pratica fatta di vigne fatta di buoio fatta di pecore fatta di di un popolo che è legato ad una terra perché c'è questo grande legame tra Dio il suo popolo e la terra di Israele perché Dio ha dato la terra di Israele ad Israele ed ora come in realtà sono legati al patto sono legati alla legge sono legati a questa situazione e loro sono benedetti in questo ma la loro benedizione è legata all'osservanza della legge noi dobbiamo osservare la legge siamo legati all'osservanza della legge no perché il Signore dice che lui ha tolto la maledizione della legge però abbiamo un legame con Israele siamo stati innestati nella ladro è vero? e dice la propria che abbiamo letto che le promesse fatte ad Abramo sono anche le nostre promesse e le benedizioni fatte ad Abramo sono anche le nostre benedizioni allora gloria a Dio in Cristo noi abbiamo ogni benedizione ma sappiamo anche che abbiamo ogni benedizione in potenza in grazia e che tante volte il nemico invece vuole cercare di toglierci la benedizione ma in fede e per grazia e per posizione noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti e ciò che dobbiamo fare è semplicemente attraverso la fede prendere la benedizione che Dio ci ha dato perché siamo benedetti di ogni benedizione nel campo spirituale nel campo naturale anche e quindi io credo che il Signore si vuole che noi siamo nella benedizione amè? altrimenti non avrebbe stabilito la guarigione nella Chiesa non avrebbe stabilito tante altre cose quindi noi siamo stati inestati siamo benedetti di ogni benedizione quando ero là io ho detto c'è qualche cosa proprio per Israele Dio vuole benedire il suo popolo ma mentre Dio vuole benedire il suo popolo nel legame che c'è anche al Patrio alla legge perché dice la parola del Signore Dio non toglie i suoi doni i suoi doni sono senza prendimento gloria a Dio lui vuole benedire ciascuno di lui amè? amè? quindi siamo benedetti di benedizione qual è il grande problema che è nato anche all'inizio del cristianesimo si legge nell'Antioca per la prima volta Antioca era una chiesa fatta di giudei e di non giudei di gentili e per la prima volta in Antioca furono chiamati cristiani i discepoli furono chiamati cristiani il grande problema era se si doveva osservare la legge o se non si doveva osservare la legge e credo che in questo noi abbiamo una risposta da parte del Signore l'Apostolo Paolo quando predicava aveva davanti a sé due grossi problemi il primo la gente sacrificava gli idoli è vero? la gente seguiva gli dei pagani quindi dovevano convertirsi e seguire Gesù dall'altro aveva i giudeizzanti che dicevano se non vi fate circoncidere se non osservate la legge voi non potete essere salvati e questo è il grande problema anche che noi troviamo nella parola del Signore e qui che Paolo respinge a piena forza della necessità di farsi circoncidere o della necessità di appunto seguire la legge perché la parola del Signore è chiara leggiamo alcuni passi pronti? primo corinzi 7 versetto 19 la circoncisione è nulla e la circoncisione è nulla ma la soluzione di Dio è tutto qual era il problema quindi? il problema era dicevano se volete essere salvati e giudalizzati dovete farvi circoncidere va bene? perché se voi vi fate circoncidere allora sarete salvati l'Apostolo risponde se è circoncisione o la circoncisione non è nulla quello che conta è essere vivi dal Signore con il cuore guarda ancora Galati capitolo 5 versetto 6 infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione quello che vale è che cosa che vale è la fede operante per mezzo dell'amore allora la legge era legata il patto di Dio era legato con Israele alla circoncisione all'osservanza che era una parte importante all'osservanza della legge se tu osservavi la legge eri benedetto nella legge erano comprese tante osservanze riguardanti i sacrifici e riguardanti le festività eccetera se tu lo osservavi eri benedetto se non lo osservavi non eri benedetto ma la maledizione veniva sopra di te ma oggi in Cristo noi siamo stati benedetti di ogni benedizione in Cristo la circoncisione o l'incirconcisione non ha più nessun significato la tua appartenenza al popolo di Dio anche se tu sei stato innestato anche se tu hai ricevuto l'eredità e la provessa di Abramo a livello spirituale è vero non è necessario che tu ti faccia circoncidere uomini penso che siete contenti va bene non è necessario farsi circoncidere per appartenere al popolo di Dio perché oggi apparteniamo al popolo di Dio attraverso la nostra fede ameno noi ci dobbiamo stancare perché è per grazia mediante la fede leggiamo ancora questa parola la parola del Signore e cosa dice l'Apostolo a questi galati che avevano ricevuto il Vangelo leggiamo insieme il versetto 6 Cristo non ha valore la 5 versetto 7 voi correvate bene chi vi ha fermati perché non obbedite alla verità una tale persuasione non viene da voi che ci ha che vi chiama è vero? quindi non ritorniamo dice a fare cose che ormai sono superate e addirittura dice nel versetto 10 che io so che voi la penserete diversamente ma colui che vi turba supera la pena chiunque lì sia versetto 11 vedete il legame tra la legge il patto e la circoncisione quanto a me fratelli se io predico ancora la circoncisione perché sono ancora perseguitato lo scandalo della croce sarebbe tolto via si facciano pure virare quelli che vi turbano cioè cosa vuol dire se vi portano nuovamente alla circoncisione alla legge non è giusto non è corretto voi non dovete ritornare alla circoncisione non dovete ritornare alla legge non c'è nessun cambiamento dice la croce lo scandalo della croce se fate ancora circoncidere lo scandalo della croce sarebbe tolto non serve per niente e addirittura dice ma si facciano i virali cioè non è una cosa tanto gradevole cioè non dice che siano maledetti ma che si facciano pure i virali quelli che predicano delle dottrine di questo tipo allora leggiamolo insieme versetto 13 fratelli leggiamolo insieme perché siete stati chiamati a libertà amè siete stati chiamati a libertà solo non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri eccetera amè allora non siamo più sotto la legge siamo sotto la grazia siamo benedetti di ogni benedizione questa benedizione comporta che siamo guidati dallo spirito santo versetto 16 se camminate secondo la carne adempirete i desideri della carne e quindi non avete più bisogno di servire la legge per sapere che cosa è giusto e che cosa non è giusto ma lasciatevi guidare dallo spirito di Dio perché così voi sarete benedetti e otterrete la pace che importa è l'essere una nuova creatura e su quanti cammineranno secondo questa regola non siano pace invece di corte e così siano solo Israele di Dio amè allora dobbiamo camminare in novità di vita siamo chiamati a vivere come nuove creature sia noi che Israele Colossessi capitolo 3 versetto 11 qui non c'è greco o giudeo o in circoncisione barbaro scita schiavo libero ma Cristo è tutto in tutti rivestitevi dunque come eletti di Dio santi ed amati di sentimenti di misericordia di benevolenza di umiltà di manzitudine di pazienza sopportandovi gli uni e gli altri perdonandovi a vicenda se una che è di dolezza di un altro eccetera è vero? come il Signore vi ha perdonato perdonatevi anche voi fratelli non c'è differenza la nostra vita deve essere in Cristo Gesù amèm dire alla persona vicina a te sopportami dai e amami sopportandovi gli uni gli altri sopportandovi gli uni gli altri con sentimenti di messa di corte allora il legame tra Dio e il suo popolo passa attraverso il patto siamo d'accordo? il patto passa attraverso la circoncisione passa attraverso la legge e le osservanze se tu sei circonciso se tu sei quindi di sangue ebreo entri nel patto e se osservi la legge sarai benedetto ma se non la osservi sarai maledetto va bene? e siccome la parola del Signore ci dice che per la legge nessuno può essere salvato noi siamo salvati per la grazia mediante la fede la parola ci dice che la circoncisione o l'incirconcisione che è uno degli elementi fondamentali per l'appartenenza al popolo di Israele è assolutamente uno degli elementi fondamentali non vale assolutamente nulla è chiaro? quindi siamo sicuri che noi non abbiamo bisogno di circonciderci per ricevere la benedizione a me su questo non ci piove però perché siamo gentili però gli ebrei siccome sono di sangue e hanno ancora l'eredità e le promesse è uno dell'appartenenza al popolo è la circoncisione uno dei segni evidenti che Dio ha dato al popolo perché era un segno evidente di un patto non evidente è proprio la circoncisione gli ebrei continueranno a farsi circoncidere ma gli gentili no ok andiamo adesso alle cibi perché uno degli elementi fondamentali per il popolo degli ebrei è vivere e mangiare in maniera pura c'è questa bella parola che Michele ormai conosce kashrut cibo kashher cibo kashher cibo kashher è un tipo di cibo molto particolare trattato in una certa maniera senza sangue con tante prorogative particolari gli israeliti gli ebrei non possono mangiare il nostro cibo devono mangiare solo il cibo kashher perché se mangiano il nostro cibo si contaminano se voi leggete nel vecchio patto ci sono dei cibi che loro non possono assolutamente mangiare maiale tutto ciò che striscia i crostacei perché sono cose che noi le ragoste ce le mangiamo grazie a Dio alleluia allora parliamo dei cibi siamo legati a servanza dei cibi leggiamo primo Timotri capitolo 4 va bene dal versetto 1 al versetto 8 leggiamolo ma lo spirito dichiara che cosa dichiara che cosa apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche sedotti nell'epocrisia di impostori già bollati a fuoco nella loro coscienza certo l'apostolo Paolo quando parlava non scherzava tanto vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi dai cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia versetto 4 amè leggilo perché tutto quello che Dio ha creato è buono e amè nulla è da rigettare amè nulla rigettare quando però quando quando lo con rendimento di grazia cosa dobbiamo fare dobbiamo dire grazie Signore per la tua meravigliosa creazione tu hai dato all'uomo dominio su pesce della terra sugli animali sugli uccelli del cielo e l'hai dato anche a noi e noi possiamo usufruirne amè tutto non siamo vegetariani non siamo carnivori siamo omnivori perché tutto quello che Dio ha dato è buono ma che sia fatto con rendimento di grazia sia fatto per onorare il Dio che è il creatore di tutte le cose per questo diceva Paolo non andate a mangiare carne nei tempi che sono delle idoli carne che sono sacrificate perché non onorerete i demoni che stanno dietro a questa situazione è chiaro? e quindi dice la parola del Signore si è usato con rendimento di grazie leggi versetto 5 perché da che cosa è santificato il cibo di Israele c'è quello santo quello puro e quello impuro quello casher è puro e quello che non è casher è impuro e ti deve astenere ma qui dice la parola del Signore è santificato da che cosa? dalla preghiera e dalla parola di Dio amén se tu sei santo ciò che entra nel tuo corpo sarà santificato perché tu sei una persona che sei santa onore di Dio anche con il tuo cibo ogni volta che tu onori Dio nella tua tavola tu stai dando la benedizione stai dando la primizia a Dio amén non hai bisogno di sapere infatti poi l'Apostolo parla anche delle carni sacrificata all'idolo e dice dovete fare inchiesta per sapere se questa carne non la fate inchiesta mangiate con rendimento di grazie di certo però se tu vai in un tempio sacrificato dove c'è un culto di idoli e tu mangi carne sacrificata all'idolo e uno che è debole nella fede ti vede e dice ma questo ma che razza dei cristiani è questo è chiaro non siamo chiamati ad andare nelle posti dove ci sono non so come dire posti dove ci sono rituali un po' stranti diciamo così va bene va bene perché noi siamo chiamati a vivere una vita di santità amén siate santi come il Signore Dio vostro è santo allora ci concisione no cibo niente feste feste Colossesi capitolo 2 fratelli io forse queste letture vi daranno un po' di fastidio però io voglio mostrarvi qualche cosa con la parola di Dio va bene perché sono state dette tante cose con la parola di Dio ma credo che ci sia da dire qualche altra cosa con la parola di Dio va bene allora Colossesi capitolo 2 perché io credo che il punto di vista oggi è che noi vogliamo vedere la restaurazione di tutte le cose e questo nuovo movimento ebraico di ebrei che stanno accettando Gesù il Messia hanno un grande problema hanno un grande conflitto interiore perché loro dicono dentro la loro vita ma se noi siamo ebrei come facciamo a lasciare la legge perché dobbiamo lasciare la legge mi spiego ma questo non è il nostro problema noi non siamo ebrei noi siamo gentili va bene a noi non è stato fatto richiesta l'osservanza della legge a noi non è stata richiesta ti devi circoncidere il settimo giorno e presentarlo al tempio a noi non c'è stato richiesto di andare a Gerusalemme tre volte all'anno non so se riesco di spiegarmi mi spiego per loro è una legge perpetua perché se non lo fanno sono nella legge e sono sotto la maledizione e capisco la posizione dei messianici ebrei non gentili ebrei che dicano ma se la maledizione non c'è più che cosa ci rimane la benedizione e che cosa è la benedizione e continuare a vivere con lo schema che Dio ci ha dato per tutta l'eternità compreso anche le feste allora io dico tutti quelli che sono messianici dovrebbero andare tre volte all'anno a Gerusalemme perché le feste dei pellegrinaggi sono che per tre volte all'anno tu devi andare a Gerusalemme ma Dio ci ha liberati da tutte queste cose tuttavia non ci dobbiamo inorgogliere e soprattutto non dobbiamo neanche giudicare ma dobbiamo vivere la libertà con amore con discrezione con misericordia guidati dallo Spirito Santo amén possiamo dire amén a questo allora questo lo dico anche perché io voglio essere chiaro io non ho nulla contro fratelli che hanno parlato con questo ultimo fine settimana ho apprezzato molto tutto quello che hanno detto ma capisco che è un punto di vista che noi dobbiamo forse maturare quello che noi abbiamo maturato fino a oggi è questo forse un giorno magari matureremo qualche altra cosa ma di certo la scrittura oggi ci dice questo e qua io voglio fermarmi senza escludere il significato che poi vi dirò un momentino più avanti scusate se stasera andiamo un pochino più a lungo ma è molto necessario va bene allora andiamo un momentino avanti ho detto le feste con lo stessi capitolo 2 va bene versetto 16 allora iniziamo anche dal versetto 8 guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani agire secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo quale sono la tradizione degli uomini la legge va bene in lui abita tutta la finezza della deità eccetera ok versetto 11 in lui siete stati circoncisi leggilo con me in lui siete stati circoncisi leggetelo per favore non abbiamo la circoncisione ma però abbiamo la circoncisione amè non abbiamo la circoncisione non siamo obbligati alla circoncisione ma abbiamo una circoncisione che non è fatta dalla mano dell'uomo amè e questo guarda è stata una cosa è una cosa gloriosa perché dice la parola del Signore questa circoncisione consiste nello spogliamento nella tua santificazione tu sei morto con Cristo sei sepolto con lui nel battesimo e sei risuscitato mediante la fede della potenza di Dio versetto 13 voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne voi dico Dio ha vivificati con lui perdonandoci tutti i nostri peccati e gli ha cancellato il documento noi ostile in cui il comandamento ci condannava e l'ha tolta di mezzo inchiodandolo sulla croce ha spogliato principate le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo e qui arriviamo alla carità versetto 16 nessuno dillo nessuno nessuno chi nessuno vi giudichi quanto al mangiare al bere rispetto a feste a nuvi luni a sabati amè? qual è il problema? i gentili possono criticare gli ebrei perché festeggiano gli ebrei possono criticare i gentili perché non festeggiano e ci sono i messianici che dicano qui Paolo non si riflessa si riferisce alla legge si riferisce alle feste pagane o pagane o non pagane nessuno vi giudichi quanto a mangiare a bere alle feste ai nuovi luni e ai sabati che sono che cosa? l'ombra sono l'ombra delle cose che dovevano avvenire quando tu sei dietro l'angolo e arriva l'ombra che cosa vuol dire? che dietro c'è qualcuno che se la porta è chiaro? tutte queste cose erano l'ombra ma quando è venuto Gesù è venuta la realtà è venuta nella realtà il corpo è di Cristo e così dice nessuno vi derubi a motivo del culto degli angeli eccetera eccetera versetto 20 leggelo con me versetto 20 se siete se siete morti con Cristo gli elementi del mondo perché come se viveste nel mondo vi lasciate ancora dei precetti quali non toccare non assaggiare non mangiare tutte cose che sono destinate a perere con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini queste cose hanno è vero una parvenza di sapienza per quel tanto che in esse di culto volontario di umiltà e di asturità nel trattare il corpo ma non hanno alcun valore servono solo a soddisfare la carne Amen Allora nessuno ci giudichi quanto alle feste Galati 4 19 Colossesi 2 Galati 4 Quanto dice la parola del Signore io sono desideroso che Cristo sia formato in voi e dice la parola del Signore versetto 18 pervene voi di essere sempre zelanti e non solo quando sono con voi il senso è che alcuni erano zelanti ma non per il Signore ma per i propri guadagni allora cosa vogliamo dire leggiamo anche Romani 14 è l'ultimo passo Romani 14 dal versetto 1 al versetto 6 l'uno stima un giorno più di un altro e l'altro stima tutti i giorni uguali ma ciascuno sia pieno accertato nella sua mente chi ha devozione al giorno ve l'ha per il Signore e chi non ha alcuna devozione al giorno lo fa per il Signore e chi mangia mangia al Signore perciò egli rende grazie a Dio e chi non mangia non mangia al Signore eppure rende grazie a Dio amè allora le feste i sabati i nove luni belle cose qual è per noi il senso di tutto questo qual è il senso di tutto questo dobbiamo ritornare come ci è stato detto perché così avremo più benedizione io dico no perché siamo già stati benedetti di ogni benedizione in Cristo Gesù e se avere più benedizione può significare per noi comprendere il senso delle feste ed il senso profetico di queste feste allora se noi comprendiamo che Dio aveva stabilito un calendario un lunario esattamente mentre il nostro calendario è un calendario solare gregoriano e vogliamo in qualche maniera ritornare a questo calendario lunario è perché questo calendario era l'unico calendario possibile per gli ebrei per sapere i tempi e le stagioni infatti questo calendario è legato all'agricoltura era legato alle luna e se voi sapete che gli agricoltori dicano che se c'è la luna calante poi non si deve seminare alcune cose va bene se mentre quando vuoi cose che non hanno fiori mi sembra se mi ricordo bene devi seminare la luna crescente è vero e quindi la luna influisce sulle nostre stagioni e allora i tempi agricoli sono determinati dalla luna l'unica maniera per poter avere un calendario che fosse tangibile per tutti senza che ci fosse qualcuno che lo stampasse qual era era guardare alla luna perché i cicli della luna sono sempre le stesse quindi se tu hai un campo e vuoi sapere quali sono le stagioni e Dio ha fissato le stagioni infatti in Genesi dice Dio ha fissato le stagioni e le stagioni sono basate dalla luna e tutta la gente poteva sapere anche il più ignorante del popolo poteva sapere che cambiava il mese perché quando c'era la luna nuova era il nuovo mese e quindi poteva sapere quali erano i mesi dell'anno e poi Dio aveva regolarizzato questi mesi nel primo mese della Pasqua e poi il settimo mese Tabernacoli e le Trombe eccetera quindi il motivo per cui aveva dato il calendario lunare e le feste era per creare una identità nel popolo la gente doveva correre a Gerusalemme perché doveva riconoscere essere uniti dall'unico Dio dodici tribù diverse ma ognuno doveva essere uno stesso popolo e ciò che ha permesso a Israele di vivere in questi 6.000 anni quando tutte le altre culture gli altri regni gli altri popoli romani i gresci sono morti e non esistono più le altre civiltà loro esistono ancora è perché hanno in qualche maniera osservato la legge hanno osservato la loro identità che è legata a questo fatto di essere circoncisi di avere comunque una speranza di una terra di un'eredità che Dio gli ha promesso e di essere legati dal patto attraverso l'osservanza delle feste della legge di tutti i riti mosaici se loro sono ancora vivi è per questo è perché non hanno mai voluto contaminarsi con nessun altro nessuno di noi può celebrare la Pasqua con un ebreo osservante perché un ebreo osservante dirà che tu sei impuro e non ti vorrà a casa sua ma se tu vai in un ebreo messianico che ha capito che cosa significa il valore delle feste e l'ombra delle cose che devono venire sarà felice di accoglierti perché tu che sei gentile e lui che è ebreo siete parte siamo parte di un medesimo corpo in Cristo Gesù tramite la fede tramite la fede a me tramite la fede e qui io voglio non so quanto tempo che parlo ma qui voglio tornare a Atti capitolo 15 Atti capitolo 15 perché qualcuno accusava Paolo di predicare un Vangelo diverso da quello che gli altri predicavano è vero? Ma Atti capitolo 15 andiamo in Atti capitolo 15 al versetto 20 ci fu una grande discussione per questo sapete no? il primo concilio di Gerusalemme la lettera che viene mandata alle persone tramite il concilio di Gerusalemme come abbiamo detto affinché anche il resto dei gentili possano onorare il nome del Signore versetto 19 per la qualcosa io giudico che non si dia molesta molestia a coloro che sono di fra i gentili che si convertono a Dio ma che si mandi loro che si astengono dalle cose contaminate per l'idoli dalla fornicazione dalle cose soffocate e dal sangue perché quanto a Mosè già dalle tanti che egli ha persone che lo predicano in ogni città essendo ogni sabato letto nelle sinagoghe e parve bene agli apostoli agli anziani con tutte le chiese di mandare a Antiochia con Paolo Bardama e certi altri uomini letti il concilio di Gerusalemme ha detto Mosè c'è già chi lo predica da millenni in tutte le sinagoghe la chiesa di Antiochia che è fatta comunque di ebrei e di gentili non imponiamo nessuna cosa particolare solo chiediamone che vivano una vita di santità che si astengono dal sangue che si astengono dalla fornicazione eccetera e credo che questa è la chiave per noi della comprensione anche delle cose è vero? e quindi non siamo legati alla osservanza della circongisione all'osservanza della cibi casher non siamo legati all'osservanza delle feste tuttavia dobbiamo chiederci ma che cosa dobbiamo fare allora e che significato ha per noi le feste allora io dico che se fossimo in un contesto diverso forse sarebbe più facile per noi però siamo in questo contesto e se noi volessimo veramente vivere la realtà che abbiamo nella Bibbia non ci fa male conoscere il significato profondo delle feste amè? e se c'è un modo per conoscere il significato profondo delle feste parlo anche nel senso profetico non nel senso pratico di osservanza di benedizione attraverso l'osservanza delle feste celebrarle in una certa maniera e dare a questo il significato cristiano il significato spirituale ci farà molto bene è chiaro? per esempio vi faccio un esempio la Pasqua il significato era questo la Pasqua è stata fatta con la celebrazione dell'agnello l'agnello è stato immolato è vero e veniva celebrata il venerdì cioè il venerdì alla sera il venerdì alla sera iniziava il sabato è chiaro? e quindi si si aveva svegli tutta la notte Israele si è svegli tutta la notte mise il sangue fuori dalle porte perché l'angelo distruttore quando passava passasse oltre infatti Pasqua significa passaggio e come dicono gli inglesi è Passover cioè passare oltre quindi quella notte hanno mangiato erbe amare sono stati in piedi e poi dopo è finito il sabato e diciamo che questi tre giorni sono molto importanti perché c'è la Pasqua e poi si celebra anche la la primizia la festa della primizia ora se noi ricordiamo quando Gesù Gesù è stato crocifisso venerdì sera la domenica è stato nella tomba ma il lunedì è risuscitato è risuscitato la primizia di quelli che dormono è morto proprio nel giorno in cui si sacrificava l'agnello va bene ed è risorto nel giorno in cui soffrivano le primizie perché lui è la primizia di quelli che dormono e non c'è tempo stasera ma ci sono tanti significati profetici e simbolici legati alle feste guardate quando è che è venuta la Pentecoste quello dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste ora a Pasqua per le primizie si offriva una mannella di grano tanti chicchi separati ma a Pasqua si offriva un pane intero quando è che la Chiesa è nata è nata proprio nel giorno di di Pentecoste a Pentecoste si offriva il pane mi spiego questo significa che da tanti grani diversi siamo diventati un solo corpo il nuovo corpo di Cristo va bene e lì è lo Spirito Santo che ci ha uniti c'è un senso profetico incredibile allora parliamo della festa delle trombe l'inizio dell'anno del nuovo anno no perché l'anno religioso inizia col mese di Nisan con la Pasqua ma l'anno politico inizia con la festa delle trombe che è seguita dal giorno dello Yom Kippur della purificazione per poi andare nelle giorni della festa dei tabernacoli significato profetico quando Gesù ritornerà la tromba suonerà amen lo shofar non è scritto la tromba ma lì l'originale lo shofar suonerà è chiaro e suonerà la tromba lo shofar suonerà e lui ritornerà e tutti lo vedranno perché la chiesa è già passata attraverso la sua intera purificazione e la parola del Signore dice che ci sarà un giorno di grande festa Gesù ha detto io non mangerò più di questo cibo finché non lo sarò di nuovo nel regno di Cieli con Abramo con Isacco e con Giacobbe allora siamo pronti per Tabernacoli io sono assolutamente convinto che Gesù ritornerà nella festa di Tabernacoli perché tutto ciò che è successo è legato alle feste e le feste sono l'ombra hanno un segno profetico delle cose che devono avvenire e noi ci riguardano perché riguardano la nostra vita e la nostra intimità con Cristo Gesù siamo parte della stessa realtà di due popoli il Dio ne ha fatti uno solo e allora come il Tabernacolo è l'ombra delle cose che devono avvenire come il sacrificio di Gesù è l'ombra è aperta una nuova via leggete il libro degli ebrei eccetera credo che per noi il nostro interesse non è vivere le feste o celebrare le feste perché così saremo più benedetti ma il nostro interesse è capire che queste cose erano già state annunciate Gesù dice leggete guardate nelle scritture perché le scritture parlano di me e sapete queste feste parlano come il Tabernacolo come tante cose che sono nella legge parlano proprio di Gesù perché tutto il messaggio è nella scrittura è entrato è centrato su Gesù così per quanto riguarda questo noi ringraziamo il Signore amè concludiamo con un'ultima scrittura Romani al capitolo 8 Romani al capitolo 8 poi magari farò vedere questo Romani al capitolo 8 al versetto 15 al versetto 17 perciò che voi non avete ricevuto lo spirito di servitù a timore anzi avete ricevuto lo spirito di adozione e per quello noi gridiamo Abba che grande differenza Israele dice Yahweh non posso pronunciare il nome di Dio perché è troppo santo e noi diciamo abbiamo ricevuto lo spirito di adozione ma in questo spirito di adozione tutti quelli che di Israele si convertono a Gesù possono dire ancora Abba Padre perché siamo salvati per grazia attraverso la fede e abbiamo ogni benedizione in Cristo Gesù Amen allora dice la parola del Signore qua quel medesimo spirito rende testimonianza allo spirito nostro che noi siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche redi redi di Dio e coeredi di Cristo seppure soffriamo con Lui a ciò che ancora con Lui siamo glorificati perché io ho ragione che le sofferenze del tempo presente non sono appunto da uguagliare alla gloria che sarà manifestata in verso di noi Amen le sofferenze nel tempo presente non sono niente rispetto ma la gloria che sarà manifestata Amen gloria a Dio perché il mondo intero aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio Amen parleremo magari più avanti più profondamente del senso profetico ma credo che per quanto ci riguarda io la mia risposta è abbastanza chiara non siamo qui chiamati a celebrare le feste perché queste qua ci porteranno più benedizione però se noi vogliamo onorare Dio e possiamo farlo anche attraverso la celebrazione della festa che cos'è la festa alla fine la festa è vivere insieme staccare un tempo perché Dio aveva inventato le feste perché Dio sa quello che fa perché sapeva che se non avesse avuto questi appuntamenti delle feste la gente non sarebbe mai stata insieme e guarda ogni volta che si fa una festa di quelle bibliche c'è sempre l'adorazione a Dio sempre benedetto sei Dio del cielo benedetto sei Dio che procura il pane benedetto sei Dio ogni volta il popolo tutto il popolo deve dire benedetto sei Dio allora cosa vuol dire per noi per noi vuol dire che se noi facciamo qualche cosa dobbiamo benedire il Dio Amen e il Signore dice oggi se udite la sua voce non fate come nei giorni del deserto non indurite i vostri cuori entrate nel mio riposo Amen allora Dio noi oggi possiamo riposarci sempre però certamente dobbiamo disciplinare anche il nostro tempo perché se non ci riposiamo mai non avremo mai neanche il tempo per onorare il Dio Amen Allora credo che il senso di quello che i nostri fratelli ci hanno voluto dire è proprio questo non ne voglio esprimere nessuna condanna anzi voglio esprimere apprezzamento per dirci che il senso è questo che se noi ci ricordiamo del senso profetico di ciò che è scritto della rivelazione che è scritta anche nelle feste come tutto nel Vecchio Testamento sappiamo che queste cose sono state scritte per il nostro ammaestramento non siamo legati a queste cose all'osservanza dei precetti perché la benedizione non viene dall'osservanza dei precetti la benedizione viene da vivere una vita condotta dallo Spirito Santo in Cristo Gesù la nostra circoncisione non è nella carne è nello spirito quindi noi siamo benedetti perché siamo in Cristo Gesù dire alla persona tu sei benedetto perché sei in Cristo Gesù non perché fai qualche cosa ma perché sei in Cristo Gesù ammè? e in questo qualche cosa comprende tutto quello che vuoi non perché mangi qualche cosa di più puro sarai benedetto perché non c'è bisogno ammè? non perché tu osservi il sabato in maniera scrupolosa sarai più benedetta perché sei già nel riposo di Dio ammè? è tutto quello che vuoi ammè? però una cosa è certa e vera lasciamoci guidare dallo Spirito Santo ammè? e se vogliamo avere qualche occasione per vivere insieme la festa perché la festa ci fa stare insieme ci porta ad adorare Dio ci porta a vivere la comunione ci porta a fare delle cose che non si fanno normalmente nella nostra vita ammè? facciamolo pure ma facciamolo con uno spirito di libertà ammè? di libertà nessuno vi seduca con i vani ragionamenti ammè? perché il corpo è di Cristo e noi siamo di Dio ammè? il Signore ci benedica ammè? andiamo a te Grazie a tutti